Il Centro Servizi Studenti Disabili di Ateneo ha ricevuto il kit Unileo 4Light. Si tratta di due maestro 3.0, computer di ultima generazione per aiutare nello studio e nella preparazione degli esami i ragazzi ipovedenti e non vedenti. Questo grazie all'associazione Leo Club Italia e più precisamente il distretto 108 TA1. Presente la cerimonia di consegna dei due ausili anche il rettore Nicola Sartor. Fondamente riconoscenti ai donatori, ai giovani del Lions Club, perché consiste la donazione in alcuni strumenti che agevoleranno la lettura e quindi le possibilità di apprendimento per gli studenti, le studentesse meno fortunate che frequentano il nostro Ateneo e che possono avere degli ostacoli all'apprendimento per qualche deficit di questo tipo. Ma come funzionano questi computer? L'abbiamo chiesto a Massimiliano Manera, coordinatore Unileo 4Light del distretto Leo 108 TA1. Ampari e funzioni, le più importanti sono molto semplicemente la possibilità di ingrandire le immagini presenti sul testo scritto, quindi vuol dire che una persona con ipovisione può leggere molto più chiaramente quello che ha scritto nei libri perché certe volte è scritto microscopico, oppure c'è anche la possibilità di poter trasformare quello che è scritto a livello audio.